Silenzio per favore. Il candidato per il Dente Consuelo, iscritto al corso di data in lingua e cultura per l'editoria, ha presentato un regalo finale valutato dalla Commissione con punti 3. Sulla base della media degli esami, pari a 98 punti del punteggio proseguito con la cosa finale, la Commissione attribuisce al candidato il punteggio complessivo di punti 101 su 110. Pertanto per i poteri conferiti nella maniera di corretore approcciamo l'ottore in lingua e cultura per l'editoria. Motterle Alice Il candidato Silvia Alice Silvia Alice Silvia Alice Silvia Alice Silvia Alice